Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube oggi come ogni venerdì tempo di promo team 2 del footbird e finalmente carte molto 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 più interessanti per quanto riguarda sia il team di giocatori che per quanto riguarda le nuove icon che veramente ci hanno regalato delle belle chicche ma senza perdere troppo tempo andiamo subito a vedere i giocatori che sono usciti oggi primo mostriciattolo che affrontiamo è il buon vinicius junior versione 92 per lui ma quello che ci interessa è il 5 di skill e il 5 di piede debole rispetto alla versione 91 prende semplicemente un più uno in tiro due in passaggio uno in difesa uno in fisico purtroppo non può prendere il lengthy chiaramente ma prende explosive con praticamente tutti quanti gli stili di intesa carta che non scopriamo di certo oggi può fare tranquillamente l'esterno il trequartista anche la seconda punta ma quello che ovviamente gli dona quel qualcosina in più è proprio questo 5 di piede debole che lo porta nell'olimpo e secondo me lo farà costare veramente tanti tanti crediti secondo giocatore rimanendo in brasile che troviamo è bruno guimaraes lui diventa lengthy con architetto rispetto alla versione 89 però gli upgrade non sono poi così grandi perché se è vero che abbiamo un 5 skill e 3 piede debole che per un centrocampista magari sarebbe stato utile il contrario ovvero un 5 debole e un 3 skill o 4 abbiamo un più uno di velocità 3 di tiro di passaggio 2 di dribbling 1 di difesa e 3 di fisico un giocatore questo che onestamente mi lascia abbastanza perplesso soprattutto per quelle che sono le alternative a centrocampo è vero che è un super gullit gang tutte le stats sopra l'80 ma onestamente virerei su altro anche perché il prezzo credo che rimarrà abbastanza altino e ribadisco che di giocatori in quel ruolo là ce ne sono veramente tanti giocatore che invece mi intriga parecchio è questo hummels per due motivi innanzitutto si prende 5 di piede debole e quindi può essere gestito abbastanza tranquillamente per quanto riguarda la fase di uscita palla al piede con un po' di qualità poi è rapido è lengthy ha un'ottima accelerazione un'ottima velocità scatto e soprattutto è del Borussia Dortmund quindi vi dà tutta una serie di link interessanti specie per Bellingham qualora vogliate utilizzare il giocatore inglese del Borussia Dortmund poi ovviamente le statistiche difensive sono tutte super stats rispetto alla carta base di fatti ha preso più 31 di velocità più 4 di tiro e di passaggio 6 di dribbling 4 di difesa e 10 di fisico giocatore che tutto sommato credo che vi porterete anche a casa ad un prezzo contenuto è un metro 91 lui super promosso almeno a guardarlo così poi ovviamente lo proveremo Christopher Kunku versione 89 l'han fatto più scarso del 92 a livello di overall e anche a livello di statistiche perché infatti il 92 ha più 3 di velocità di tiro di passaggio di dribbling di fisico e 2 di difesa giocatore che mi aspettavo non dico più forte ma più o meno su quel valore lì è un SBC che però costa un milioncino voi con un milioncino se avete tanti fodder vi portate comunque a casa un 5-5 veloce dotato di un ottimo passaggio di un ottimo tiro super agile palla al piede che può fare praticamente tutto per cui se proprio avete tanti fodder da riciclare lui è una di quelle SBC che vi consiglio poi c'ha anche questa immagine dinamica che in te soffia dentro al palloncino mi fa sentire male però questo è un giocatore da tenere assolutamente sotto controllo altra carta carina è questa di Tejesh che rispetto all'85 prende più 4 di velocità, 2 di tiro, 3 passaggio, 4 dribbling, difesa e 5 fisico purtroppo è 5 skill e 3 di debole che in fase di uscita potrebbe causare qualche problemino però viste le statistiche visto anche per quanto riguarda l'agilità, l'intercetto e i passaggi potrebbe costituire una valida alternativa a sinistra magari se avete una liga al solito mendino nonostante comunque reputo il francese leggermente più forte Timo Berner è ritornato l'incubo dei giocatori di foot versione 89 rispetto all'86 si prende più 2 di velocità, 3 di tiro, 4 passaggio poi 3 in dibling, difesa e fisico 4 skill, 5 piede debole, questo non c'è bisogno neanche che ve lo dica ormai penso che l'abbiate appurato e imparato classico attaccante da PS4 stile Bejeder, stile Dalvich, stile Eusebio quindi se avete bisogno di un giocatore tedesco della Bundesliga per le vostre squadre su PS4 lui fa al caso vostro Stefan il Sharawi, versione 89, più 1 praticamente in tiro velocità, passaggio e fisico, più 2 in dribbling e fisico per quanto riguarda poi stile skill e piede debole l'han lasciato 5-3 mi aspettavo almeno 5-4 però questa è una carta molto carina per quanto riguarda la serie A, può fare il COC, può fare l'esterno, eviterei di metterlo punta però è una carta di tutto rispetto, tanti me l'hanno chiesto in passato anche sulla versione 88 io l'ho consigliata si sono trovati molto bene per cui per quello che sarà il prezzo anche del faraone io direi un tentativo di darglielo abbiamo poi Onana, 5 skill e 5 piede debole per continuare con questi portieri incredibilmente tecnici da provare come tutti i portieri, a guardarlo così mi sembra discreto, pecca leggermente nella velocità e nelle uscite però per quanto riguarda la serie A sicuramente è un portiere di tutto valore anche perché è 1,80m andatelo a testare e vedete come vi rende cartone questo qui di Anthony, 5-5, rispetto alla carta 86, più 1 di velocità, 2 di tiro, 3 passaggio, 1 dribbling, 2 difesa, 2 fisico il grosso problema di questo giocatore qua è il 78 di reattività vuol dire che palla al piede alle volte rischia di rimanere abbastanza impantanato nei suoi movimenti per cui mi ha un po' deluso, me lo aspettavo meglio, costerà anche tantissimo perché è un 5-5 esterno a destra della Premier in più dello United brasiliano in un ruolo dove non è che ci sono questi grandi giocatori per cui al momento ne starei alla larga il buon Piero in capie è un obiettivo per cui come al solito lo sbloccherei e me lo terrei in squadra mentre Simon Kier è un giocatore di tutto rispetto Langty, 5 skill e 3 di debole, rispetto alla carta 86, più 16 di dribbling, 2 difesa, 5 fisico, 4 passaggio, 1 tiro e 3 velocità peccato per l'accelerazione perché onestamente mi aspettavo qualcosina in più nonostante sia Langty e conta più la velocità scatto tanta roba invece le statistiche rinnovate per quanto riguarda agilità, reattività e soprattutto equilibrio che prima erano tanto deficitari buona anche l'aggressività e la forza questa è una carta che in serie A può essere provata anche se la reputo al di sotto sia di Screener che di Kim per body type passiamo alle icone, icone che sono veramente un qualcosa di incredibile il primo è Paolo Maldini, versione 95 che rispetto a quello 94 prende più 1 di velocità, 1 di tiro, 2 passaggio, 3 dribbling, 1 difesa e 4 fisico 5 skill e 4 piede debole per un giocatore di 1,86 m e io vi dico che questo qui da Langty rischia di diventare una mina incredibile non tanto da DC ma da Terzino ragazzi miei perché da Terzino con quelle statistiche lì e quelle caratteristiche di piede debole e stelle abilità potrebbe essere veramente super interessante ovviamente anche da DC perché una carta con 97 di difesa raramente la vedi però Ocio a schierarlo lì a sinistra dove comunque di Terzini si c'è Teo però Teo non ha queste doti fisiche che ha il buon Paolone nazionale così come nessuno ha queste doti del buon Eusebio perché rispetto alla carta 93 vedete c'ha dei più 1 esigui però ha 5-5 e ha messo finalmente la quinta di skill al buon Eusebioski che onestamente va a diventare una sorta di Gerzino su Next Gen c'è ora il solito problema che non correrà più di tanto però questo su PS4 è l'attaccante definitivo meglio di R9, meglio di qualsiasi altra creatura mai esistita cartona anche questa del buon Rikikaka peccato che non diventi lengthy ma rimane controlled ma 5-5 anche lui da giocare serenamente sia esterno che trequartista perché con il suo body type di 1,86 m dovrebbe riuscire a portare su palla rispetto alla versione 91 si prende più 1 di velocità 2 di tiro di passaggio, di dribbling, di difesa e di fisico e onestamente questa è la carta che un po' gli amanti di questo calciatore sognavano dal primo momento che fosse rilasciata sul gioco per cui vedremo come sarà, magari proverò a testarle e a portarvi qualche review Patrick Kluivert 4 skill e 5 piede debole quindi alla faccia di uno da PS4 ma in realtà essendo lengthy anche su PS5 con un cannoniere per metterlo lì a correre cavallo pazzo si può provare anche perché è 1,88 m per cui risulta super comodo farci sponde con questo giocatore qua un po' la redenzione di un attaccante che non si è mai filato nessuno così come Osho ha questo Veron che rispetto alla carta 90 prende più 5 di velocità e di dribbling più 2 in passaggio e tiro più 4 di difesa e più 1 di fisico 3 di skill e 5 di piede debole sarebbe stato meglio un 4-5 ma ci accontentiamo una carta che se ricorderete quando furono introdotte le Prime Moments si vedeva girare anche in competitivo per cui occhio perché questa versione qua magari potrebbe essere una carta interessante per un giocatore che secondo me non ha mai avuto questa grossa giustizia su FIFA e soprattutto con Architetto diventa anche Langty ad un prezzo discretamente esiguo Wayne Rooney grosso occasione persa tutte le altre sue versioni erano Langty questo l'hanno messo appositamente con 86 per non farlo diventare Langty 5 skill 4 debole ovviamente dei più 1 e dei più 2 niente di eccezionale però la carta assolutamente è di tutto rispetto più da PS4 a questo punto che da PS5 anche in questo caso Desely non ha bisogno di presentazioni Langty con praticamente tutti gli stili di intesa dei più 1 rispetto alla carta base più 2 in difesa e fisico 1,85m lo ricorderete sicuramente perché Desely era in vantaggio però carta assolutamente da provare qualora ve la ritrovate tra le mani giocatore invece abbastanza inutile sto Barnes 5-4 rimane Controlled se l'avessero fatto 5-5 ve l'avrei detto pure sì però onestamente a vederlo così mi sembra il solito Barnes che fa tutto ma in realtà non fa niente quindi ragazzi per questo video è tutto fatemi sapere come al solito se siete soddisfatti di questi giocatori usciti e se volete vedere qualcuno di questi provati sul canale a me non resta altro che ricordarvi che sono live tutti i giorni sulla mia piattaforma viola più o meno dalle 8 fino alle 2 un saluto nel vostro Riberoski una buona serata ciao